Come comportarsi con le persone negative per non assorbire la loro energia? Questo è un dato di fatto, diciamo. Le persone negative, per diversi aspetti, tendono a, come dire, essere un po' come le mele marce, che rovinano completamente la nostra vita. È importante che tu sappia gestirle, ma soprattutto evitare di innamorarti di queste persone, perché se per caso disgrazia vuole che tu ti innamori di queste persone, sei completamente andato, perché distruggeranno completamente la tua vita, la distruggeranno, la rovineranno completamente. E ti faranno stare male, fondamentalmente il discorso è questo. Quindi devi veramente imparare a identificare le persone negative. Ci sono delle cose che noi abitualmente non prestiamo attenzione, però bisogna renderci conto che va identificata la persona negativa, e soprattutto nelle relazioni sentimentali, ma in qualunque tipo di relazione. Ovviamente nelle relazioni sentimentali, se tu hai a che fare con una persona negativa, anche squilibrata, facente parte della trida oscura, macchiavellica, oppure psicopatica, persone psicopatiche c'è pieno nel mondo, devi tolgerti dei coglioni, perché altrimenti avrai negatività. Persone che hanno una vita sregolata, squinternata, che ti fanno entrare dentro queste situazioni, devi identificarle. Ci sono delle situazioni più palesi e situazioni più subdole, ma in ogni caso la cosa fondamentale è non innamorarti di questa persona. Mantenere sempre il tuo equilibrio interiore e non coinvolgerti, è quello che fa con la persona. La persona negativa è quella sempre che ti arreca dei danni, che tende a scoraggiarti, a demotivarti, che non riconosce i tuoi meriti e che è una persona che ti ferisce fondamentalmente. Ma le relazioni sentimentali effettive, ad esempio, tradendoti, andando con tante persone, mettendoti costantemente, diciamo, creando la triangolazione del narcisista, mettendoti dicendo, ah, quello, tirando fuori un ballo, ma il mio ex faceva così, ma quell'altro faceva così, ma io... Ecco, questa tipologia di persone è veramente una persona, sono persone estremamente subdole, estremamente negative, che tendono a distruggere completamente la loro vita. Sono persone che ti danno anche, come dire, delle indicazioni sbagliate. Fai attenzione perché identificare le persone negative è fondamentale. Prima di coinvolgerti, prima di innamorarti, comunque anche se sei coinvolta o coinvolto, nel momento in cui identifichi una persona negativa, fuori dei coglioni! Quindi, diciamo, le persone negative hanno una perfidia, sono perfide, tra l'atteggiamento e insito nel loro modo di essere. Nasce da sentimenti negativi, che sono l'invidia, che sono la negatività, e fanno in modo che tu assorba la loro negatività. È proprio per questo, è proprio per questo che tu devi evitare. Ma in che modo la persona negativa può portare avanti questo modo di fare? Beh, diffondendoti paura di che ti abbandoni, ad esempio, se tu capisci perché sono camaleontiche, se capisci che tu sei un minimo coinvolto, cercherai di farti venire paura dell'abbandono. Ti diffonderà ansia, ti diffonderà insicurezza, ti diffonderà rancore. Quando è una relazione dove vivi una certa ansia, beh, intanto significa che per te, significa che non hai, diciamo, tutta questa, come possiamo dire, stabilità. Perché se io ho il mio equilibrio interiore, non devo perderlo in funzione del comportamento degli altri. Se io ho il mio equilibrio interiore, gli altri possono fare che cazzo vogliono. Io devo mantenere sempre il mio equilibrio interiore. Non è che devo perderlo, ah, ma mi ha tradito, ah, ma mi ha fatto questo, iii, ma mi ha fatto quello. Non devo perdere assolutamente il mio equilibrio interiore. Le persone negative cercano di trasmettere la loro negatività parlando continuamente male degli altri. Agli altri parleranno male di te, a te parleranno male degli altri. Sono persone tossiche che trasferiscono elementi di negatività. Sono persone che, ad esempio, nelle relazioni sentimentali effettive cercano in qualche modo di seduti, di conquistarti per poi rovinarti. Sono donne che, ad esempio, vanno alla ricerca di uomini sposati per poi mandare gli screenshot alla moglie. Oppure sono uomini che si approfittano magari dei sentimenti, uomini o donne si approfittano dei sentimenti degli altri. Questo può avvenire anche nel mondo del lavoro. Le persone negative stanno un po' dappertutto. Ad esempio il mobbing è una di queste situazioni. Allora, noi dobbiamo imparare a mantenere il nostro equilibrio interiore e pensare, io me ne fotto di quello che fa un altro, è un problema suo. Se un altro non mi tratta come vorrei, fuori dai coglioni, fa un culo, fuori dai maroni, testa di minchia, levati dal cazzo, pensalo dentro di te e mandala a cagare fortemente. Questa è quella unica cosa che devi fare. Mandala a cagare fortemente. Non ci sono altre possibilità. Individuare le persone negative nei contesti più disparati è possibile perché nel momento in cui tu però hai il tuo equilibrio interiore, questo è fondamentale. Perché se ti innamori di un derelitto, se ti innamori di un catramista, di una catramista, ce l'hai in quel posto. Devi liberartene, mantenere il tuo, il tuo equilibrio interiore è fanculo, evitare questa persona. Devi sentirti libera di abbandonarla, sentirti libera di mandare a fanculo. Troncare un rapporto del genere non è una cosa sbagliata, è la cosa più giusta che tu potresti fare. Ma anche se ci soffri un attimino, devi chiudere. E non sperare di conquistarla, non sperare di sedurla, perché se fa parte di una persona della triad oscura, o psicopatica, folle, con comportamenti squinternati, che cambia da un momento all'altro, tu devi cancellarla dalla tua sfera relazionale. Sono persone matte, sono persone fuori di melone. Cancellala completamente dalla tua sfera relazionale. Meno interagisci, meglio è. non sentirti assolutamente in colpa. Ognuno è libero di scegliere, ognuno è libero di, diciamo, di fare quello che vuole. Tieni presente che la negatività non è un difetto, è un qualcosa che devi toglierti. Evitare, poi persone negative, vedrai che ti farà stare meglio. Devi respingere la malignità, ma solo tu puoi farlo, evitando ovviamente di coinvolgerti. non ci sono altre possibilità se non quello di evitare queste persone. Seguimi su YouTube, iscriviti al mio nuovo canale Massimo Terramasco. Ciao!